credo che le clip sprigionano la sinergia di questa build ragazzi ovviamente full white budget 2k si vede una build bella importante bella piazzata e niente adesso andiamo a vedere un po cosa ci sta dentro che anticipo che ci sta un processore di intel il 13600k affiancato a un rtx 4070 ti non mi limiterò soltanto a portarvi la build la lista dei componenti avete visto ve l'ho assemblata andiamo anche a testarla e vediamo anche un po come si comporta nel campo del gaming perché questa build è appunto orientata al gaming anche se per il processore che ha a bordo e per la quantità di core che ha diciamo che potrebbe tornare utile anche per chi non gioca soltanto ecco una build full white nel canale non è la prima che vediamo e ne abbiamo fatte altre però questa ragazzi devo dire che è uscita fuori davvero davvero ad hoc sarà che c'è una bella scheda video bianca di no 3d sarà che c'è un bel dissipatore il valkyrie sin 360 ma anche il case diciamo che non è da meno il ricin tank pin c7 che anzi parleremo un po di questo case perché è nuovo sul mercato mi è stato inviato direttamente da ricin tech per farvelo vedere niente non c'è modo migliore se non tramite una build detto questo beh vi invito a iscrivervi al canale ragazzi mi raccomando bottoncione rosso è gratuito lasciate un like un commentino e niente facciamo partire lo sponsor di oggi lo sponsor di oggi è my case shop un sito dove si vendono ok di qualsiasi cosa dai giochi ai software ma oggi parleremo di windows 10 11 ed office nello specifico windows 10 pro la key ragazzi sì sul sito costa 14 euro 87 ma grazie al coupon di sconto del 55 per cento sd23 applicate il coupon 6 euro 69 potete pagare un paypal ed ecco ordine effettuato ve spara subito la key dalla key la copiate andate dal vostro carissimo windows impostazioni cercate windows attiva ora e niente copiate la key vi dico che può essere utilizzata anche per windows 11 windows attivato tutto apposto divertitevi col vostro nuovo pc ma se volete prendere anche office sappiate che c'è il prezzone anche lì grazie al coupon ve lo portate a casa a meno di 27 euro my case shop tutti i link giù in descrizione attacchiamo e partiamo dai componenti ragazzi perché effettivamente non possiamo parlare di una build se non analizziamo che c'è sta dentro e ovviamente partiamo dal case perché così vi faccio un po' vedere vi dico quattro parole a riguardo visto che è un case interessante dal prezzo abbastanza contenuto e diciamo che l'estetica e magari già l'avete vista perché alla fine è sempre il solito design dual chamber stile di allì ma come ogni case con questo stile ecco ogni brand va a interpretare nel proprio modo come realizzare il case appunto che sappiamo detto nome pian pian pin c7 insomma quello che vi lo portate a casa più o meno con 70 80 euro difficilmente l'ho visto super 80 euro su internet ovvio ci stanno i 10 euro di spedizione ma ecco oscillano i prezzi tra 65 70 75 euro più o meno case dual chamber molto compatto a differenza degli allì è molto ma molto più stretto c'ha le dimensioni più o meno al pari della versione mini ma non è la versione mini oltretutto ha all'interno nella parte posteriore spazio per installare un alimentatore atx non l'sfx come la versione mini per quanto riguarda le misure abbiamo 380 mm di altezza quindi 38 cm 420 di lunghezza e 285 di profondità quindi è bello tozzo e fraccagnotto per darvi proprio un'idea piccolino più piccolo il magnum gear in altezza ed è praticamente molto simile alle misure del litek dark cave che vi ho portato nella versione black che è però micro atx questo invece è atx lo spazio nella parte anteriore è un pochino ridotta perché ovviamente ci sta è un case dual chamber oltretutto c'entra una tx di dietro però ecco non così ridotta da creare problemi le schede video comunque c'entrano tranquillamente anche quelle un po più importanti di lunghezza andiamo sui 41 cm quindi tranquilli proprio quello che può rompere un po le scatole è l'avvicinamento della scheda video se è bella tozza verso il vetro quindi magari è consigliabile utilizzare un adattatore che vigia il cavo pitch express verso diciamo dietro in maniera tale da occupare meno spazio possibile ad oggi con la 4070ti che ho installato di inno 3d che poi ho utilizzato il cavo quello originale voi in qualche clip vedete un cavo bianco ok e perché ovviamente la 4070ti ha il 12 pin e l'alimentatore che poi dopo vedremo al volo è una versione vecchia quindi non con questo cavo e ho dovuto usare un adattatore preso da amazon bianco ma appena l'ho installato ho capito che non è al caso utilizzarlo e quindi ho installato quello di inno 3d originale per evitare problemi quindi ci ho fatto le clip e poi l'ho posato e essendo un pochino grosso e poco che curva diciamo va tra virgolette a sbattere addosso al video quindi lo spazio si è poco da quel punto di vista per quanto riguarda invece la dotazione di spazio per il radiatore vento e quant'altro lo spazio non lo è visto che come tutti i dual chamber abbiamo 360 nel top come possibilità di installare appunto il radiatore ce l'abbiamo ficcato anche noi il sim 360 di valkyrie nella parte bottom idem un 360 c'entra ma dissipatori sul bottom a meno che non è un custom loop non ce lo piazzerei però c'entra uno per vento da 120 per fare appunto un bel airflow a camino verso l'alto e poi nella parte laterale a fianco alla scheda madre c'entrano oltre vento da 120 o radiatore fino ad 80 al 360 non entra piccola pecca che lo accomuna per esempio all'itec dark cave mini che appunto in altezza non c'entra un 360 idem qui anche tre ventole da 120 ce le mettiamo ma a forza diciamo io ho preferito metterle due da 120 in tutti gli spazi a parte il bottom è possibile installare una ventola da 140 anche quindi sia a fianco alla scheda madre che nel top da segnalare che per essere un dual chamber abbiamo anche la ventola nel posteriore vicino alla scheda madre che di solito nel design dual chamber non c'è nella parte di dietro c'è un sacco di spazio per il cable management una bella piastra per gli ssd e hard disk che se ne possono installare due vi fa oltre che da piastra per gli ssd anche vi aiuta a nascondere il cable management se come nel mio caso avete i cavi abbastanza lunghi si puoi gestire ad hoc quanto ti pare il cable management ma sti cavi da qualche parte li devi anche piazzare per quanto riguarda invece il routing per far passare i cavi è fatto ad hoc ci stanno un sacco di gommini ed è da segnalare un gommino interessante che di solito non si vede ovvero un gommino che ti permette l'installazione di schede ma di micro tx senza che sti cavi penzolano a destra e manca è pensato anche per installare una mob micro tx mantenendo estetica interessante ecco sul top abbiamo ovviamente un filtro magnetico antipolvere e poi c'è stanno due usb 3.0 e una type c che per il budget del case che abbiamo sparato prima non è per niente male cioè 70 euro di case con la type c sì non c'è stanno le ventole ma ragazzi è una cosa colmabile su amazon ad oggi se prendono le thermarite kit da 3 rgb bianche a 15 euro quindi non ve lamentate prima tanto ecco che a 100 euro ve lo portate a casa con 70 euro di case e anche due kit e quindi 6 ventole rgb per quanto riguarda il top c'è da segnalare anche il bottone dei led voi dite ok di solito si fa col tasto reset avremmo fatto una cosa simile no c'è un bottone in più quindi non c'è un hub ma se c'è l'hub ce lo attaccate lì come accessori più che altro ci stanno viti per montare i vari componenti manca qualche fascetta diciamo e strip strap quindi qualcosa di utilizzabile e nella parte posteriore per il routing e da segnalare anche un scarso avvicinamento della parte delle ventole alla parte laterale davanti quella del lato mobbo dell'evento lato mobbo e infatti ho fatto un mezzo magheggio per passare i fili delle ventole in maniera un po custom non come l'ha pensata ricintech diciamo così questo per quanto riguarda il case che è importante inquadrarlo e vedevo dire ragazzi per il budget alla fin fine si può scontrare con l'itek darkave che però ecco c'ha diciamo qualche ventola ma vi costa anche una ventina d'euro in più di solito quindi ecco lì che grazie a thermarite le ventole a poco budget sicuramente potete risolvere tranquillamente per il resto dei componenti che c'è sta allora ho detto come processore abbiamo un 13600 kf più o meno 300 euro di processore ad oggi quello è il budget è un 14 core 23 che vi torna molto utile per giocare ovviamente diciamo che ad oggi prendendo z790 più questo processore si spende così tanto che è meglio optare per un 7800 x 3d con una b650 e che più o meno sempre 600 euro spendete ed avete qualcosa che va di più in gaming però io ho pensato a parte che questo diciamo che è un rimasuglio di quello che ho in casa partiamo da sto presupposto che parte da una build più qualche cosa immediata qua e là però il 13600 kf vi torna utile nel momento in cui non giocate soltanto perché i 14 core 23 vi tornano appunto utile in produttività magari se fate video editing rendering insomma se ce lavorate col pc su che scheda madre abbiamo montato questo processore beh l'abbiamo montato su una z790 prime a di asus 16 p1 fasi insomma è caruccia diciamo che asus per intel non è la miglior mob e hanno fatto un po di casini sui bios però a parte questo esteticamente faceva al caso nostro silver perché non è totalmente white ma diciamo che esteticamente è davvero perfetta poi è 16 p1 fasi insomma bella carrozzata in termini di dissipazione ci sta come dissipiamo il processore con il valkyrie sin 360 su questo dissipatore non perdo tanto tempo se non dirvi che è un dissipatore abbastanza costoso che alza parecchio il budget della build infatti sì 2000 euro ma va a fini che so quasi 2100 e v'ho detto le performance a testo pc più o meno le potete ottenere con 1800 1850 euro però è un dissipatore con display bianco con ventole davvero figherrime e ve costa appunto 250 euro c'è una recensione dedicata solo a lui e vi dico che mette al packaging e tutto quanto come realizzato è davvero un ottimo acquisto arriverà su amazon ancora non ci sta ma appena arriva sicuramente tenetelo d'occhio come ram ram semplici diciamo che non sono le più gettonate sono quelle che avevo in casa e sono le kingston più i 6000 cl32 comprate quando costavano 300 euro e ad oggi c'ho ancora quelle rgb carine c'è ovviamente di meglio ad oggi magari vi consiglio di optare a delle 64 cl32 o anche delle 6000 cl30 vedete un po' anche per trovare il miglior chip al miglior prezzo ecco ssd un frecuda 530 diciamo che appunto in realtà c'ho anche un altro ssd però vi dico questo per entrare nel budget ho anche un pioneer che c'ho da sei anni da 2 tera che utilizzo come memoria aggiuntiva è un 3.0 mentre appunto il frecuda 530 è un 4.0 7400 mega di velocità insomma un bel top di gamma da 1 tera ovviamente l'alimentatore che l'abbiamo tenuto un po' da parte in realtà è perché ce l'ho davvero da tanto tempo ormai penso che avrà tipo 4 anni e mezzo è un alimentatore di rog basato su piattaforma seasonic gold ed è appunto un 80 plus gold il 850 e white con oltretutto cavi di cable mods perché non mi piacevano quelli con l'attacco bianco mi piaceva un po' questo attacco bianco e nero poi anche per non avere i cavi sdoppiati della pitch express insomma per un po' di cosine e niente quindi ce l'ho così ci stava per la build bianca e ad hoc ovviamente per una build ex nuovo io prenderei un alimentatore a tx 3.0 e con pitch express 5.0 in maniera tale che non ci avete problemi con le nuove schede video di nvidia soprattutto se volete mettere la scheda video che ho appiazzato io ovvero la 40 70 ti scheda video che abbiamo recensito anch'essa sul canale c'è un video dedicato recensione fatta con test su un 5800 x oggi andiamo a vedere questo video dei confronti con il 13600k per vedere se vale la pena spendere di più sul processore schede video comunque ad hoc vi confermo le temperature vado detto nella recensione perché in un case è diverso rispetto alla test bench comunque mantiene le temperature interessanti anche essendo una custom tra virgolette economica anche se essendo bianca poi costa comunque di più però è una delle più economiche bianche ed è compatta ma allo stesso tempo a buone temperature mi sembra che abbiamo espresso parere praticamente su tutto abbiamo perso un po' più di tempo sul case ovviamente però ecco vi ho detto i vari componenti ora lato assemblaggio vi dico che il case e l'ho trovato davvero interessante anche da quel punto di vista ve l'ho già detto il cable routing dietro si può fare ad hoc ci sta parecchio spazio poco spazio di manovra magari ecco vicino ai vetri se soprattutto non ti va di smontare il vetro davanti comunque c'ha 4 vidi se volete si può smontare però ecco che alla fin fine ci sta e promosso anche lato cable management e montaggio in generale detto il montaggio vi dico le temperature ma qualcosa già ho detto durante la scheda video vi dico anche del processore ecco temperature interessanti il dissipatore è un vero top di gamma non è che ve lo tiene tranquillo il 13600k di più l'avete visto nei test in gaming non vi porto test super interessanti insomma la recensione ve l'ho già portata del dissipatore anche la scheda video reagge tranquillamente a temperature interessanti torno ai 70 gradi anche sotto pesantemente sotto ora parliamo di test come è andato il confronto con il 5800x torna utile anche per capire se vale la pena spendere così tanto su un processore e quando vale la pena e vi dico che i test hanno dato un diciamo una risposta che mi aspettavo ovvio che il 5800x in QHD limita ma non sempre quindi è interessante capire quali sono i titoli che possono andare a rompere le scatole e sono quei titoli in cui il processore la ricchia un po' di più anche se sono rimasto sorpreso che su titoli come Modern Warfare 2 quindi su Call of Duty non è che è cambiato tanto perché per esempio lì c'è un bel lavoro lato processore c'è anche il lato interessante su Cyberpunk quindi mi aspettavo anche lì dei grandi cambiamenti in QHD non troppo ma qualcosina invece no, sì è un mattone per la scheda video e lavora benone anche il processore su Cyberpunk però ecco non cambiamo granché, cambiando dal 5800x al 13600k che torna a ribadire se passano un bel po' dei budget perché ecco il 5800x lo rimedia 200€, 100€ di MOBO e 100€ di RAM ma so pure tante potenzialmente anche una settantina perché le RAM che abbiamo a bordo sono economiche sulla Bench, sono 3200 CL16 quindi parliamo di 370€ di combo rispetto a 300€ di processore, 300€ di schermate più 150€ è veramente il doppio, spendete 370 contro i 750€ e le performance in QHD, li vedete dai grafici ragazzi sono pressoché simili se non per 4 titoli Hitman, Far Cry, Shadow of the Tomb Raider e Borderlands poi ecco ci stanno giochi in cui guadagni qualcosina Formula 1 2022 per esempio, anche Fortnite guadagna titoli come Cyberpunk sono molti in linea e anche Modern Warfare 2 devo dire quindi ci sono situazioni in cui in QHD non cambia nulla ma che performance ha sto PC? di media si fa i 160fps nel roster dei miei giochi a mio avviso i 140fps comunque li tiene su un sacco di giochi di media, sempre di media escludendo quindi questo roster anche vedendo le recensioni degli altri è una scheda video che vi permette di giocare tutto maxato ad hoc in QHD da dio per quanto riguarda il 4K ecco il 5800x oltre 10600k vanno per solo uguali abbiamo una media di 95fps contro 98 che ve cambia nulla sul roster dei 10 giochi ma in generale mi aspetto che questa scheda video anche vedendo i test torno a ribadire degli altri vi permette di giocare con un PC simile almeno a 60-70-80fps di media in 4K a un sacco di titoli il roster ovviamente di giochi non c'ha super titoloni nuovi però c'ha dei giochi mattonati ok quindi comunque sono interessanti ci sono giochi come Formula 1 2022 che alzano l'asticella per quello vi dico se la media è 96 ecco 75-80fps in 4K comunque li fa escludendo quel gioco oppure 140 invece di 165 di media in QHD che dirvi ragazzi vi ho detto un sacco di cose e soprattutto fatemi sapere che ne pensate di questa build come è venuta fuori a me piace un sacco per il momento è la mia build la vedete qui dietro e la utilizzo fino a che tengo la scheda video perché come tutti i campioni delle schede video di No3D prima o poi tornano in fabbrica dalla mamma appunto in No3D detto questo ragazzi vi ho detto un sacco di cose vi ho fatto dei componenti vi ho parlato delle performance anche delle temperature di come mi sono trovato ad assemblarlo ma adesso bisogna parlare della build la consiglierei o non la consiglierei per chi è una build simile allora build che per quanto mi riguarda è una build che mi farei anch'io personalmente la utilizzerò per un po' infatti una volta che le assemblo comunque un po' le tengo e vi devo dire che è ottima per chi non gioca soltanto questa build la farei appunto nel momento in cui non devo solo giocare se no a parità di budget tanto vale piazzarci dentro un 7800X 3D con una B-S50 risparmiando magari qualcosa sulla MOBO scheda video invece la 4070 Ti in questo budget ce la piazzerei? c'è chi dirà no prendo una 7900 XT perché c'ha più RAM perché va di più? sì ma ritorno al discorso che è una build più generale impostata per non solo l'utilizzo gaming e per fare anche altri ambiti tipo video editing, rendering o altre cose in cui ecco i CUDA di NVIDIA possono tornare davvero utile invece del case del Rycin Tech Pin C7 tenendo in considerazione ragazzi che se lo trovato a 70€ magari anche senza pagare la spedizione magari appena esce su Amazon e mi pare che al momento ci sono solo la vendita di terzi ecco ecco due kit di ventole c'è un bel case con una buona costruzione in senso di buona fattura con magari ecco 30€ di ventole che già ce n'avete 6 più un buon dissipatore c'avete davvero un ottimo case piccolino quindi non è super gigante molto più piccolo è l'11 per esempio ma anche più piccolo è il Magnum Gear e dell'ITEC Dark Cave a misura di un mini di un case mini micro ATX ma permette l'installazione di scatamate ATX e PSU ATX conclusioni finite votate i miei pareri niente ragazzi stacchiamo e andiamo a dormire lasciate un like un commentino se siete arrivati fino a qui siete davvero dei bravi ragazzi e niente appunto commentate e fatemi sapere che ne pensate da build iscrivetevi un ringraziamento ancora a Rycin Tech a Inno3D a ovviamente anche Valkyrie perché è il dissipatore anche loro e HV Legend soprattutto e detto questo niente ci si vedete un prossimo video ragazzi non solo al vostro Davide dal piccolo Baby Yodo dove è Baby Yodo? eccolo Baby Yodo la mascotte nel canale e niente ci si vedete un prossimo video ciao